La mattina del 30 gennaio 1889 a Meierling, a sud-ovest di Vienna, il cameriere personale del principe Rodolfo d'Asburgo apre alle 6.30 del mattino la porta della camera da letto del padrone e si trova di fronte a una scena orribile. L'erede al trono giace esanime, con la bocca e il mento sporchi di sangue. Disteso sul letto il cadavere di una giovane donna e la baronessa Maria Vezera, amante del principe. Nella stanza verranno trovate due lettere di addio, entrambe scritte da Rodolfo, una alla madre e una alla moglie. Lui è sposato, in più sembra evidente che si sia suicidato, forse dopo aver ucciso la compagna. Gli elementi per uno scandalo ci sono tutti. Si fa circolare la storia, ripresa dai giornali, di una morte del principe dovuta a un aneurisma, ma la verità venne fuori in fretta. Rodolfo era morto suicida. Oggi parleremo di uno dei misteri della casa degli Asburgo, la tragedia di Meierling. Cosa ha spinto il principe Rodolfo a suicidarsi? Che cosa successe realmente a Meierling? La baronessa Marie Alexandrine von Vezera, detta Maria Vezera, nacque a Vienna il 19 marzo 1871. La famiglia Vezera era originaria di un piccolo paese a sud di Bratislava. Il padre di Maria si chiamava Albin, mentre la madre si chiamava Elena Baltazzi ed era di origine italiana. Durante l'infanzia e l'adolescenza visse a Londra e al Cairo, seguendo gli spostamenti del padre nella sua carriera diplomatica. Bruna, formosa e di aspetto piacente, la ragazza era soprannominata dagli intimi Mary Deere. Negli anni 70 e 80 dell'Ottocento, durante la stagione estiva, si recava spesso con la famiglia in Repubblica Ceca, dove Maria conobbe la contessa Marie Louise Vollarisch. La sua educazione fu affidata ad un precettore amico del padre. Sembra che tra gli insegnamenti ci fossero, oltre alla lingua inglese, anche lezioni d'arte, di conversazione e di canto. Maria era molto appassionata di equitazione. Tale passione le fu trasmessa dagli zii Baltazzi, fratelli della madre. Secondo la madre, la baronessina si sarebbe infatuata del principe Rodolfo proprio durante le corse di primavera che si tennero al Prater nel 1888. Molti biografi sono tuttavia concordi nell'attribuire alla piccola vezzera un'infatuazione per l'erede al trono già prima di tale data, probabilmente fin dall'inizio dell'età adolescenziale. Rodolfo d'Asburgo Lorena, arciduca d'Austria e principe ereditario della Corona d'Austria, Ungheria e Bohemia, nacque a Vienna il 21 agosto 1858. Era figlio dell'imperatore Francesco Giuseppe d'Austria e di sua moglie, l'imperatrice Elisabetta, detta Sissi. Rodolfo si rivelò presto un bambino precoce, con una straordinaria intelligenza e sensibilità, ma dall'altra parte era fisicamente debole e spesso malato, era timido e molto bisognoso di affetto. Subì un'educazione essenzialmente militare. Il bambino, seppur molto piccolo, venne sottoposto a prove di resistenza, come rimanere sotto la pioggia o al freddo per delle ore, oppure venendo svegliato nella notte con colpi di pistola fuori dalla sua porta, oppure abbandonandolo nei boschi di Linz per fargli vivere sensazioni ed esperienze che avrebbero potuto temprarlo come uomo e aiutarlo a crescere come soldato. Sapendo a cosa Rodolfo veniva sottoposto, la madre Elisabetta scrisse una lettera al marito, in cui pretese assoluti e pieni poteri sull'educazione dei figli, il pieno potere per decidere chi e con quali metodi li doveva educare. Fu un ultimatum, un vero e proprio ricatto, poiché aggiunse «O se ne va l'educatore di Rodolfo, o me ne vado io». Elisabetta predispose tutto affinché il povero Rodolfo potesse ricevere un'educazione più adeguata. L'educazione del piccolo venne affidata a Ferdinand von Hochstetter. Con lui, Rodolfo si appassionò alle scienze naturali, iniziando da bambino una nuova dettagliata collezione di minerali. Manifestò invece sempre pochi interessi per la letteratura e le lingue straniere. Grande appassionato d'arte, si dilettò sempre nel disegno e nella pittura. Paradossalmente, una volta sistemata la «questione Rodolfo», Elisabetta perse un interesse per il suo unico figlio maschio, che in realtà era molto più simile a lei rispetto alla figlia Maria Valeria, che Elisabetta amava smisuratamente. Così Rodolfo, guardato con sospetto dalla corte e praticamente abbandonato dalla madre, si sentì sempre più isolato, in particolare da quando, dopo aver raggiunto i 18 anni, suo padre riprese nuovamente in mano la sua educazione. Durante i suoi viaggi di studio in Europa, in particolare durante un viaggio in Gran Bretagna, Rodolfo si convinse di dover entrare attivamente nella discussione politica, ma essendo principe ereditario non poteva farlo apertamente. Il suo primo scritto contro la politica antiquata dell'aristocrazia fu redatto da lui all'età di 19 anni e pubblicato, anonimamente, a Monaco di Baviera. Questo scritto fece un enorme scalpore a Vienna e l'ignoto autore fu violentemente attaccato e condannato dalla stampa della corte. Negli anni successivi, Rodolfo si mischiò sempre più frequentemente negli affari della monarchia e iniziò ad esprimere il suo dissenso al patto di ferro che legava Vienna alla Germania di Guglielmo II. Il padre non affiderà mai rilevanti incarichi di politica interna a Rodolfo, però gli riconoscerà le straordinarie doti diplomatiche, tanto che lo invierà in tutta Europa per negoziare e rappresentare la monarchia del casato. Il 10 maggio 1881, Rodolfo sposò la principessa Stefania del Belgio, un matrimonio che all'inizio sembrava funzionare bene, ma dopo poco andò in crisi. Il 2 settembre 1883 nasce la loro unica figlia, Elisabetta Maria, chiamata Ergi. Il rapporto iniziò a degenerarsi, soprattutto poiché Stefania non poteva dargli altri figli per aver contratto la gonorrea dal suo stesso marito. Rodolfo iniziò a rifugiarsi in una vita colma di vizi, segnata dall'alcol e dalle compagnie femminili. Per le sue posizioni ritenute rivoluzionarie, il padre decise di farlo osservare e pedinare. Il principe Rodolfo si trova un pomeriggio al parco Prater di Vienna. Qui incrocia lo sguardo per la prima volta con Maria Vezera, una baronessa di appena 17 anni. Maria si informa sulle parentele del giovane principe e scopre che ha un legame con la contessa Marie-Louise Vollarisch, una sua amica. La contessa avrà un ruolo determinante in tutta la vicenda. Infatti si pose come intermediaria tra Maria e l'ereda al trono. A novembre 1888 i due innamorati riuscirono ad incontrarsi. Scrisse il principe Rodolfo, Maria non aspira alla parte di una madame de Pompadour. Il mio rango lei è indifferente, lei è solamente una donna che mi ama. Ne ho conosciute molte, anzi di molto più belle, ma non ho mai trovato un cuore più fedele. Con l'inizio del nuovo anno le voci di una relazione fuori dal matrimonio dell'ereda al trono di Austro-Ungheria giunsero a palazzo. Fu scandalo a corte. Rodolfo supplicò al padre di rompere il matrimonio con Stefania, poiché il suo cuore ormai apparteneva solo a Maria. È il 29 gennaio 1889 e il principe decide di lasciare il palazzo reale viennese e di trasferirsi al castello di Meierling, una città a 30 chilometri a sud-est della capitale. Poche ore dopo viene raggiunto da Maria Vezera. I due vennero trovati morti. Il suicidio insieme alla sua amante fu deciso probabilmente in un momento di panico. Fu quindi il risultato di un accumulo di problemi privati e pubblici. All'indomani la versione ufficiosa attribuisce la responsabilità a Rodolfo, il quale avrebbe sparato alla testa dell'amante per poi uccidersi egli stesso. Per permettere il seppellimento all'interno del mausoleo degli Asburgo, Rodolfo venne dichiarato in stato di disordine mentale. Il cadavere della Vezera venne traslato nel cuore della notte e segretamente sepolto. Francesco Giuseppe trasformerà poi Meierling in un convento penitenziale delle suore carmenitane. Esistono altre teorie sui fatti di Meierling. Secondo l'imperatrice Zita di Borbone Parma, vedova dell'imperatore Carlo I d'Austria-Ungheria, che regnò dal 1916 al 1918, Rodolfo sarebbe stato assassinato. Responsabili sarebbero stati gli ufficiali della sicurezza austriaci, in risposta alle presunte simpatie dell'arciduca nei confronti della parte ungherese dell'impero. Un'altra ipotesi vedrebbe agenti francesi come autori dell'assassinio di Rodolfo, motivati dal fatto che questi si sarebbe rifiutato di partecipare ad un complotto contro il padre. Secondo altre testimonianze la baronessina era nuda, secondo altre vestita. Per altri Rodolfo era sdraiato sul letto accanto a lei, o per altri ancora su una poltrona. Un'altra ipotesi è che Maria fosse incinta e che a Meierling sia stato tentato un aborto artigianale, con conseguente moraggia mortale di lei e successivo suicidio del principe, travolto dal dolore e dal rimorso. Un'altra teoria priva di fondamento è sicuramente quella che vede Maria come figlia illegittima di Francesco Giuseppe. Di fatto non vi sarà mai alcuna prova a supporto di tutte queste teorie.